L'Italia ha inventato materialmente tante destinazioni famose in Egitto come Sharma e Sheikh e deve tornare ad essere uno dei mercati al top. L'impegno arriva direttamente dal ministro del turismo Isham Zazu alla convention egiziana del tour operator italiano Suon Tour, tra i più attivi sulle destinazioni in terra d'Egitto, da Marsa Matrou sul Mediterraneo fino al Mar Rosso con Marsa Alam e Sharma. Se volete aiutare l'Egitto, ha detto Zazu agli agenti di viaggio presenti, venite qui a trascorrere le vostre vacanze in totale sicurezza. Chi soffre comunque di più, turisticamente parlando, sono le destinazioni dell'Egitto classico, Luxor e il Grande Nilo. Per il ministro egiziano è giunto invece il tempo di tornare a visitare la vera terra dei faraoni. L'Egitto è un paese sicuro, prestiamo molta attenzione alla sicurezza dei nostri ospiti, i turisti stanno tornando, ma soprattutto verso le spiagge, dal Mar Rosso al Mediterraneo. Ci auguriamo e lavoriamo per rivedere i visitatori dall'Italia verso il vero e unico nostro prodotto, che è la nostra storia, la nostra cultura, il nostro Nilo. E proprio verso il Nilo, dalla convention di Sharma, arriva la novità dei prossimi mesi, come conferma il presidente di Suon Tour, Giorgia Adli Zaki. Noi stiamo programmando proprio un volo che partirà da Roma con Blu Panorama diretto sul Luxor, per cui il cliente potrà fare 4 notti o 3 notti di crociera e poi l'estensione al mare, oppure addirittura la classica 7 notti che partirà dal Cairo, Cairo 3 notti e 4 notti di crociera. La parola d'ordine per riattivare i flussi è quindi dinamismo, con nuovi prodotti e con partnership d'eccellenza, come quella presentata sempre alla convention tra Suon Tour e un marchio mondiale come Sheraton, per un club suon all'interno dello Sheraton Villas di Sharma. Una ricetta che vuole essere vincente per entrambi, come sottolinea il general manager di Sheraton Charm, Ahmed Kamel. Suon Tour è stato un partner molto importante per Sheraton Charm, siamo impegnati nell'attrarre nuovi volumi di business, provvediamo a corrispondere alle esigenze dei nostri ospiti ricercando feedback che migliorino i nostri servizi, per riuscire ad attrarre ancora altri clienti.